Il vivaismo nei suoi vari aspetti, economico, ornamentale, ma anche sociale, soprattutto in una città come Pistoia, che vive del verde e che fa del verde la sua immagine, sarà l'argomento al centro della prossima puntata di Green News, la trasmissione realizzata da TVL in collaborazione con l'Associazione Internazionale Produttori del Verde, Moreno Vannucci. Sono tante le iniziative che si stanno sviluppando nella città di Giano e che ruotano intorno al verde. Ricordiamo che alla fine di giugno è prevista la manifestazione Vestire il Paesaggio, ma soprattutto l'inaugurazione del Nersery Park, della Vannucci Piante, un vero e proprio biglietto da visita per la città. Io me l'auguro, noi l'abbiamo fatto anche per questo e sarà sicuramente, lo è già, perché io credo non ci sia persona che ormai arriva a Pistoia e non si domandi cosa è questa bellissima installazione. Non lo dovrei dire io, ma se me lo passate, perché è veramente una cosa eccezionale, ma non per l'azienda Vannucci. L'azienda Vannucci ovviamente ne avrà beneficio, ma sicuramente ne avranno beneficio tutti i colleghi e ne avrà beneficio la città, perché quando si arriverà a Pistoia e chi arriva a Pistoia dirà, come dicevi te, questa è veramente la città delle piante. Vestire il Paesaggio ci sarà questa inaugurazione, come abbiamo detto l'altro giorno, del nuovo Nersery Park, che è lì all'uscita dell'autostrada. Nell'occasione la Vannucci Piante, perché a questo punto si può parlare proprio della Vannucci Piante, ha organizzato insieme ai commercianti di Pistoia una bella iniziativa. Non la valorizzazione del verde, ma anzi una sinergia per far sì che il verde di Pistoia entri nei negozi per attirare persone a visitare il nostro centro cittadino e poi di conseguenza venire anche al nuovo Nersery Park. Tutti insieme si può fare aumentare le visite, non mordi e fuggi a Pistoia, ma di qualità, di livello per soggiornare, rendersi conto, stare bene con i nostri prodotti enogastronomici, i nostri luoghi di riposo formidabili. E quindi una crescita totale e cercare di promuovere Pistoia come a Siena, fu tanto l'esempio, promuovano il Palio, come a Torino l'auto, come a Vicenza l'oro e via dicendo. Noi abbiamo questo prodotto per eccellenza su cui poter poi far leva anche su tante altre tipicità. Grazie a tutti.